Ho indovinato, hai visto? Oh, demonio, cosa hai indovinato? Ho preso... Oh! Eh, dai, ma dai, ma dai, ma dai, ma dai, ma... Mi vuole 10 euro? No, no, no. Eeeh, buonasera a tutti ragazzi. Bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Oggi, video completamente diverso dal solido, perché introduciamo un nuovo format. Quale sarebbe codesto format? Eh, mamma mia che italiano. Ci prepariamo per l'esame che quest'anno abbiamo alla maturità. Sì, dai, che hai preso 5. Allora, io ti venderò te e tu venderai me. Cioè, uno alla volta, perché se no non ce la facciamo. Sì, quindi, indovina l'oggetto challenge, vince chi indovina più oggetti. 5 a testa e vediamo chi vincerà. Sì, tu perdi. Ma vinco io, io so riconoscere qualsiasi oggetto. Tipo questo. Ci vedi? Ci vedi? C'è un miracolo. Tame time. Ragazzi, facciamo questo gioco sempre e perde sempre. Infatti è a meno 800 nasi. E tu è a meno 800 regia. Perché gli rubo il naso e è diventata come Voldemort. Ragazzi, prima di iniziare il video, però mi raccomando, iscrivetevi al canale che ci fate un piacere enorme. Enorme. Cioè, questo è il regalo più grande che ci fate. Tra un mese, tra l'altro, sarà il nostro anniversario. Due anni, Dio santo. Non so come sia possibile. Qualcuno mi aiuti, vi prego. Lasciate like e condiviate il video. E possiamo iniziare. Ragazzi, inizierà lei. Dovrà riconoscere 5 oggetti. La bendo. Ah, tutti di subito. Sì, sì, sì. Ci vediamo dopo. Quante dita sono? 3. No, sono 4, ma ce la fai? Adesso? 2. Ecco, allora Danny non vale, ma tu guardi, tu vedi. Tu vedi. Adesso? 5. Tu vedi? Veramente? Sì. No, sono totalmente a casa. Va bene. Ragazzi, ho scelto. Se non capite l'oggetto, ragazzi, ve lo metto in sovrappressione. Che cos'è? Sovrappressione. Sì, si dice, sovraimpressione. Impressione, tu hai detto sovrappressione. E l'ultimo è questo. Adesso vediamo se l'indovina. Ragazzi, andiamo col primo. Vediamo se l'indovina. E te lo metto sul tavolo? Una penna. Andiamo al prossimo. Oh, madonna. Ho un caricabatterie. Sì, brava. Sì, facile per lei. Andiamo al prossimo. Questo è un po' più difficile. Qui? Con quanto? Di afferla vari piatti? Madonna, ma sei bravissima. Vabbè, una cosa è easy. Non sono bravo, ragazzi. Questo è quello per chiudere. Il latte. Ah, ma Dio, ma li hai dovinati tutti? Non è possibile. Facciamo che arriviamo a dieci, perché sennò ne prendo altri cinque. È più difficile. Eh sì, non è possibile. Adesso io trovo qualcosa, guarda, che non riesci a riconoscere, zio santo. Allora, se li indovini tutti, però devi indovinare tutti esattamente cosa sono, ho una penitenza che dovrai scegliere tu. Ma intanto non li indovinerai tutti, speriamo. Allora, vi faccio vedere un attimo che cosa ho preso. Questo. E questa qua per ultima. Bene. Vai con questo. È quello che ho io per chiudere la camicia da natte. Va bene, dai. Hai indovinato. Sei su dieci. Ma si può annusare? Se vuoi. No, no, non ci tengo. Un calcino. Ah, non lo so? Ma che schifo. Però è pure tuo. Brava. Comunque non è usato, è nuovo. Andrei con questa qua. No, bollacchiavetta. Ma diusanto. No, dai, mi ti prego. Dai, no. Questo è il braccialetto. Ultimo. Un biglietto. Di cosa? La carriera. Sì, ma Dio santo. Hai indovinato tutto? Che penitenza vuoi che faccia? Che faccio? Vuoi dieci euro? No, no, no. Devi scegliere una penitenza per un video. Ah, ci pensa allora. Fini video Danny deciderà la penitenza, per cui faremo anche un video. Ok, raga, adesso prendiamo lui. Quanti dite? Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, zero. Dai, iniziamo. Hai indovinato, hai visto? Oh, demonio. Cosa hai indovinato? Ok, raga. Ho preso... Oh. Eh. Ho preso dieci oggetti. Questo è il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo. Iniziamo con questo. E non sta... Stai attento? È una papera? No. Un pulcino? Mmh, bravo. Sì, tipo una canuccia. Bravo. Ah, è un cacciavite? Bravo. Non è un trapano? No. È tipo una roba per fare... No, che si appende questo. Si appende così. No. È una roba per mescolare? Ho sbagliato. Eh, no, è sbagliato. No. Ti ho detto una volta. No, hai una possibilità. No, non ho capito. Eh, no, 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 hai perso. Una in meno di me. No, no, ma che cos'è? Tre su quattro. Che cos'è? È per il frullatore. No, no, non l'hai detto. Sì. Hai detto per appendere. No, no, ma per appendere il frullatore. No, no, no. È un succo. No, no, scherzo. Ok, tu prendi tutto per sé. È un brattolino. È di cosa? È liquido dentro. Eh, grazie. Non è mica scontato. È un brattolo con dentro un liquido. L'hai perso. Ma? È un deodorante. Ma non lo sai neanche tu. Sì, lo so. Cos'è sta roba? Ma dai, ma tu hai fatto troppo difficile. No, sono stravagili. Cos'è sta roba? È quello che metti nel carrello quando fai la spiglia. Eh, sì, quello. Eh, no, eh, quello è un totale. Sì, ma dai, ma davvero le tiri fuori queste cose. Un cucchiaio? No. È una pentola? Cos'è? No. Per cucinare? Perché è bucato? Ah, è un retino. Chiama Passino comunque. Sì, Passino. Hai sbagliato. È un retino? Io lo chiamo retino. No, perché tu hai detto pentola e tu. Ma dai, ma era per lì. Ma l'ha filato? Cosa? Oh, senti quanto... Taglia sta roba. No, non taglia. Ragazzi, ma è pazzo. Questa mi dà una lama di un coltello. Una medaglia. Una medaglia. No, hai sbagliato. È una targhetta. Te la faccio vedere dopo. Una bombola. Lattac. Vinavil. No. Una salsa, BBQ, sauce. No. Dai, ma dai, ma dai, ma dai. Una colla. Eh. Con i glitter. Eh, Vinavil. No, non è la Vinavil. Ma era per dire, una colla. Tre ne hai sbagliate. Quattro. Quattro ne hai sbagliato? Tre, quattro, sì. Tre. Oh, si è rotto qua. Ma è di tuo padre? Sì. Ah, ecco. È un telefono. No. È un metal detector. Un telefono senza fila. È un metal detector? Ma si rompe se faccio? Non è un metal detector. No, non si rompe. Non lo so. Non ne ho idea. È una pila. Ah, sì, sì. Ah, era l'ultimo? Sì. Va bene, ne ho indovinati un, due, tre, quattro, cinque ne ho indovinati. Quindi neanche la sufficienza. No. Sì, ma dai, ma è difficilissimo. Ragazzi, lei è stata... Cioè, i miei erano molto più facili. Ma non è vero. Cioè, da dire che erano... Facilissimi. Appunto. No, i tuoi. Appunto. No, quelli che ti ho fatto io. Ah, va bene. No, a me sembrava di no. Commentate secondo voi se erano più facili i miei o i suoi. Qual è la penitenza? Allora, la penitenza che verrà fatta a Franci, ovviamente dobbiamo arrivare a 20 like, raga. Sì, almeno 20 like. Vi prego. Sarà che lui dovrà bendarsi, cioè lo vendo io come sempre, e gli farò assaggiare prodotti che a lui non piacciono per niente. Quindi, tipo i funghi. Quindi, indovina il suono challenge. Quindi, tipo, registro un mammut che fa... E tu devi capire che è un mammut. No, vabbè, tipo, aprire questo, così, registrare il suono e vedere se riesce a capire che suono è. Raga, non doveva andare così, ma purtroppo il video è andato così. Mi raccomando, arriviamo a 20 e 30 like per i prossimi episodi. Speriamo che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, ciao!